Nel nome del Padre, del Figlio, e dello Spirito Santo. Amen. Modello delle Madri. Che tante cure adoperaste per richiamare a Dio. Quell'eletto figliuolo da prima traviato. In cui la Chiesa orvenera uno dei suoi grandi campioni. Il Santo Dottore Agostino. Purtroppo, anche ai nostri tempi l'età giovanile. Ben che si incontri con indole nobile e generosa. Corre grave pericolo. Di lasciarsi affascinare la mente e il cuore. Dalla superbia e dalla sensualità mondana. De. Voi degnativi insegnare dal cielo. A tutte le Madri Cristiane. A curare la mente e il cuore. De figli ad esse conceduti dalla Provvidenza. Perché cooperino alla salvazione di tali anime loro affidate. Ispirate al loro amor materno. Sentimenti di celeste sapienza. Perché tutto si è volto. A sparger semi di santa educazione nella crescente prole. E ad esercitare. Su di essa incessante vigilanza e tenere ammunizioni. Innalzando anzitutto a Dio. Dietro il vostro esempio. Le più fervide preci. Onde ottener quelle celesti consolazioni. Che il Signore sparsi a larga mano su di voi. Nell'accordarvi l'ammirabile conversione del grande. E per doppio titolo. Vostro Agostino. Padre nostro che sei nei cieli. Si è santificato il tuo nome. Venga il tuo regno. Sia fatta la tua volontà. Come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano. Rimetti a noi i nostri debiti. Come noi li rimettiamo ai nostri debituri. E non ci indurre in tentazione. Ma liberaci dal male. Amen. Ave, o Maria, piena di grazia. Il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. E benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio. Prega per noi peccatori. Adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre. Al Figlio. E allo Spirito Santo. Come era nel principio. Ora e sempre. Nei secoli dei secoli. Amen. Santa Monica. Pregate per noi.